Siamo con Stefano Melani, responsabile del centro formazione Crupier all'AIS di Londra, la fiera del gioco, la fiera del divertimento e quindi non possono mancare i tavoli da gioco. Come sta andando questa fiera, quali sono i riscontri sui prodotti? C'è un'ottima fluenza, dobbiamo dire, come primo giorno la fiera è piena, i prodotti sono sempre tantissimi, molte le novità, le evoluzioni, le innovazioni, soprattutto tecnologiche, nei casinò. Qui allo stand Abbiati abbiamo una serie di partnership con diversi gruppi molto importanti e le novità insomma non mancano. Ecco, quale futuro per la professione del Crupier? Perché, insomma, si parla di intelligenza artificiale, si parla di un'evoluzione di questa figura. Voi cosa ne pensate? Ma, diciamo che sono molte chiacchiere, chiaramente la tecnologia sta prendendo sempre più piede nei giochi, però il fattore umano e anche il fattore artistico, dal punto di vista sia della manualità che anche dell'hospitality, sicuramente, diciamo, sarà difficile da battere ed è comunque sempre molto richiesto, quindi il dato umano è ancora molto importante. Ecco, invece per quanto riguarda invece l'industria dei casino in Italia, l'augurio di una figura importante come lei, qual è per il presente e il futuro? Sicuramente auguro all'Italia di fare le riforme necessarie per poter sviluppare bene questa industria, che è parte dell'economia in qualsiasi posto che si voglia porre, offre tanta opportunità di impiego e sicuramente rilancierebbe il turismo. È il momento di moralizzare un po' il settore e di invitare, insomma, i nostri politici a fare una riflessione.